buongiorno ben ritrovati sul mio canale oggi vedremo come realizzare una mattonella granny con la chiusura perfetta chiusura e apertura del giro allora sul canale trovate un'altra un altro tutorial della granny però con un avvio una chiusura molto differente questo tipo di chiusura ci rende possibile che cosa squadrare meglio il lavoro come vedete questa qui un pochino qui perché sono andato un attimo con l'uncinetto più largo in questo punto sembra che abbia delle percezioni però ancora non l'ho messa in forma in genere potete puntarla per esempio con degli spillini su una base morbida ma liscia in modo da metterla in forma questo tipo di lavorazione adatta soprattutto quando noi non vogliamo cambiare colore ad ogni giro io vi propongo questa versione perché la devo utilizzare in un nostro progetto più ampio però il principio è sempre lo stesso adesso vediamo proprio quando noi andiamo a utilizzare la stessa tonalità di colore nelle due righe successive come questo rende tutto più semplice questo tipo di apertura e chiusura allora di cosa abbiamo bisogno innanzitutto di filato o monocolore oppure di varie sfumature e un uncinetto adeguato nonché un paio di forbici allora partiamo con l'inizio all'inizio per me è sempre lo stesso anello magico anche se può essere sostituito da 3 catenelle 4 catenelle per fare un cerchietto oppure nel caso per esempio io lavoro con l'acrilico posso avviarmi con 4 4 catenelle e fare proprio la parte centrale nella catenella iniziale però con il cotone essendo meno elastico è gradito appunto iniziare con l'anello magico una volta fatto l'anello magico mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta di entra rientro nello stesso faccio altre due ma le altre aggiuntive perché il centro del nostro della nostra mattonella della nostra grani è costituita da quattro gruppetti di tre maglie alte suddivise da 3 catenelle ho parlato intanto lavoravo quindi 3 catenelle rientro faccio il secondo gruppo di tre maglie alte prima seconda terza che siamo il secondo gruppo poi faccio 3 catenelle una due e tre vado qui e rientro a fare il terzo gruppo 12 faccio attenzione quando lavoro nell'anello magico in modo da lavorare intorno a tutti e due cappietti se per caso quello iniziale sta per nascondersi sotto la lavorazione vado semplicemente a stringere un po il mio anello 3 e sono arrivata al mio ultimo gruppo faccio le mie tre maglie alte 2 e 3 poi stringo il tutto mi accerto di aver lavorato il mio gruppetto questa volta non chiudo con le 3 catenelle mi accanto qui ma faccio una cosa molto semplice metto una catenella filo sull'uncinetto rientro nella terza catenella in della diciamo delle tre che ho fatto all'inizio giro e chiudo con una mezza maglia alta questa è il trucco di tutto cosa lo tengo tengo un angolo perfetto cioè vado a fermarmi dove proprio al centro al centro dell'angolo quindi non ho l'archetto delle 3 catenelle quindi c'è questo angolo arrotondato perché i gremi appunto con le 3 catenelle tende molto a formare appunto un angolo retto in questo modo adesso taglio il filo perché voglio cambiare colore ve la faccio vedere chiudo così con una maglia bassissima quindi una catenella di sicurezza e il mio centro è iniziato come vedete qui si forma proprio un angolo retto questo è il trucchetto allora una volta che ho fatto il centro vado a stringermi il cappio iniziale inizio a nasconderlo sotto la lavorazione perché non vorrei mai che poi in una lavorazione molto più grande si possa opla si possa sfilare il tutto invece lo vado a nascondere in questo modo lo vado un po a fermare se non riesco con l'uncinetto posso farlo con l'ago volendo possiamo già accorciare lo faccio a corso e già direttamente il tutto adesso prendo l'altra sfumatura di colore io ho scelto varie tonalità del rosa per il mio lavoro e vado a riprendere da dove ho chiuso allora nel nel punto di chiudere del giro precedente mi aggancio con le mie 3 catenelle per formare la prima maglia alta 1 2 e 3 rientro e fatto altre due maglie alte cioè invece di lavorarmi tutto l'angolo tiro un po il filo per poi fermarlo sotto mi vado a realizzare metà dell'angolo ok in questo modo poi aggancio una metto una catenella vado nell'angolo successivo perché qui non ci sono punti da realizzare tra un lavoro e l'altro tra un angolo e l'alto 3 ma le alte 3 catenelle 233 ma le alte e mi vado a ripassare gli angoli in questo modo dopo proprio la forma alla mia gremmi square allora così vado nell'altro angolo vedete questo ormai è già completo continuo 2 e 3 3 catenelle spero di inquadrare le mani 3 maglie alte una 2 3 catenelle vado nel penultimo 3 1 2 e 3 3 catenelle e 3 ok perfetto adesso vi faccio vedere come proseguire con lo stesso colore ok allora sono arrivata al terzo angolo devo andarmi a realizzare che cosa l'altra metà del dell'angolo iniziale catenella cerco intanto di bloccare anche capito il filo avanzato della lavorazione sottostante vado a costruirmi l'altra metà faccio le mie tre maglie alte perché qui avevo iniziato da mezzo angolo e non completo 2 e 3 una catenella filo sull'uncinetto mezza maglia alta nella terza delle catenelle iniziali mi ritrovo nuovamente con un angolo retto in questo modo allora io non voglio cambiare colore perché appunto sto facendo un lavoro che vuole lo stesso colore quindi vediamo come iniziare il secondo giro con la stessa tonalità faccio le mie 3 catenelle poi rientro qui due maglie e metà angolo e pronto adesso devo andarmi a lavorare anche il gruppetto di tre sulle aggiungo una catenella e vado a lavorarmi le tre maglie altre sul punto centrale fatto nel giro precedente e proseguo così tranquillamente per tutto il giro allora come detto questa è una tecnica che va benissimo sia per quanto riguarda la lavorazione monocromatica quindi con uno stesso colore sia per quanto riguarda il cambio colore come avete notato cioè nel momento in cui noi andiamo a realizzare che cosa un un angolo costituito da una catenella e da una mezza maglia alta il l'angolo mi viene perfettamente retto quindi questo mi permette di evitare perché molto spesso capita nella mattonella granny che per qualche motivo per un altro svirgole un pochino si incline un pochetto proprio per evitare questa inclinazione io utilizzo questo modo di iniziare e terminare i giri come detto è molto utile soprattutto quando io devo lavorare che cosa dei giri con colori diversi perché ho vado a iniziare magari sul lato qualsiasi su un punto qualsiasi laterale ma nel momento in cui decido di lavorare nell'angolo io devo per forza di cose cercare di fare meno errori possibili e quindi di evitare che sbirgoli ok perché se io vado a lavorare la gremia poi inserisco in un progetto più grande in cui appunto poi le diciamo i difetti vengono in qualche modo attenuati camuffati ben venga posso fare diversamente però se io voglio le rendere appunto l'angolo proprio bello di 90 gradi la strategia migliore secondo me è questa poi logicamente ognuno ha le proprie le proprie tecniche le proprie capacità questo è solo un suggerimento per avere appunto una lavorazione molto più meno pasticciata infatti chiacchierando sono arrivata all'angolo che chiudiamo insieme e poi vi saluto adesso taglio il filo perché voglio poi ricambiare il colore allora eccolo qua questo è il risultato dopo tre giri logicamente questo è un pochino più larga perché lavorando sotto sotto la camera diventa un pochino più complicato ricordiamoci sempre poi di andare a inglobare all'interno del diciamo delle della lavorazione stessa i fili se avete un po di pazienza e non andate di fretta potete farlo man mano che lavorate in modo da evitare poi di farlo alla fine e dimenticarvi qualcosina se lo facciamo gradualmente durante la lavorazione è molto più semplice allora questo è quanto io poi proseguirò con i fucsi e con il nero se l'idea vi è piaciuta ma se avete anche altre strategie per la chiusura perfetta mi raccomando scrivetemelo nei commenti e iscrivetevi al canale al prossimo tutorial a presto da oggi nete lo sbaraglio